La Cassazione ha respinto I ricorsi presentati contro le condanne emesse dalla corte d'assise di Catania nei confronti di tre niscemesi, adesso come dicevamo arrestati dalla squadra mobile e dalla polizia, devono scontare un ergastolo e quasi 26 anni di carcere. Vediamo. Un ergastolo e quasi 26 anni di carcere confermati dalla Cassazione nei confronti di tre pregiudicati nisseni condannati dalla corte d'assise d'appello di Catania a vario titolo per tentato omicidio e omicidio nei confronti di Alfredo Campisi. Gli agenti della squadra mobile di Caltanissetta, in collaborazione con quelli del commissariato di Niscemi, hanno eseguito il provvedimento definitivo a seguito del rigetto dei ricorsi presentati in Cassazione contro le condanne emesse dalla corte d'assise d'appello Etanea. A carico di Giuseppe Amedeo Arcerito, 64 anni, condannato all'ergastolo con isolamento di urno di tre mesi, di Salvatore Di Pesquale, 51, che deve spiare 13 anni di reclusione e del 47enne Francesco Amato, condannato alla pena di 12 anni e 9 mesi di carcere. Arcerito, considerato elemento di vertice di Cosa Nostra Niscemese, è stato condannato alla pena dell'ergastolo in quanto ritenuto responsabile in qualità di mandante dell'omicidio di Alfredo Campisi, avvenuto nel novembre del 1996. Amato Di Pesquale, sono stati ritenuti colpevoli di aver attentato in due occasioni, una nella piazza principale e l'altra presso un laboratorio di lavorazione marmi di Niscemi, alla vita dallo stesso Campisi. Per tutti è stata contestata l'aggravante dell'aver compiuto quei gravi fatti di reato come appartenenti alla associazione mafiosa di Cosa Nostra di Niscemi, Ala e Manuello. Le indagini della squadra mobile condotte con il commissariato di Niscemi, culminate nel 2011 con la remissione di sei ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico dei tre condannati, oltre ad Alessandro Emanuello, Sebastiano Montalto e Rosario Lombardo, quest'ultimo deceduto, misero in risalto la figura di Campisi, soggetto emergente dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra Niscemese, all'interno della quale si era verificata una spaccatura dovuta soprattutto alle ambizioni di comando dello stesso, il quale già dal 1994 aveva iniziato a crearsi uno proprio gruppo di spietati minorenni, tra i quali in particolare spiccava Giuliano Chiavetta, attuale collaboratore di giustizia. Campisi venne ucciso sul ponte di Rillo nelle campagne decate che segna il confine tra la provincia di Ragusa e quella di Caltanissetta. L'omicidio venne commesso materialmente da Antonino Pitrolo, oggi collaboratore di giustizia, e da Giuseppe Buzzone, quest'ultimo già condannato, in altro procedimento alla pena di 17 anni. Campisi venne raggiunto più volte alle spalle mediante l'utilizzo di una pistola semi-automatica marca Walter Calibro 7,65 con matricola brasa, mentre si trovava alla guida della propria autovettura Y10 in compagnia proprio di Chiavetta. Pitrolo e Buzzone portarono al termine l'omicidio dopo un lungo inseguimento effettuato a bordo di una Fiat Tempra che aveva avuto inizio dalle porte di Niscemi e si era concluso proprio sul ponte di Rillo. Campisi negli anni era stato vittima anche di due tentativi di omicidio per i quali, dopo le indagini della squadra mobile di Caltanissetta, furono condannati Alessandro Emanuello, all'ergastolo in qualità di mandante dei tentati omicidi e dell'omicidio, ed il collaboratore Emanuele Celona, in qualità di esecutore materiale dei due fatti di sangue. Altri esecutori materiali furono i Gelesi Emanuele Greco, Massimo Carmelo Billizzi, Fortunato Ferracane e Nunzio Licata. Lo scorso 6 ottobre a Giuseppe Amedeo Arcerito sono stati confiscati terreni, mezzi agricoli e fabbricati per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro acquisiti grazie al suo ruolo di vertice ricoperto in seno alla associazione mafiosa di Cosa Nostra operante a Niscemi. E a Gela continua l'azione di contrasto alla detenzione e allo spaccio di droga. I carabinieri hanno arrestato un giovane che spacciava nonostante fosse ai domiciliari, sequestrati circa 5 kg di sostanza stupevacente divisa in diversi panetti di hashish, marihuana e dosi di cocaina. Agli arresti domiciliari non disegnava di spacciare droga. I carabinieri del reparto territoriale di Gela, agli ordini del tenente colonnello Antonio De Rosa, lo hanno scoperto e lo hanno manettato. Il protagonista della vicenda è Carmelo Antonuccio, 28 anni. Nella sua abitazione i militari dell'arma hanno rinvenuto circa 5 kg di droga divisa in diversi panetti di hashish, marihuana e dosi di cocaina. I carabinieri di battuglia, durante un controllo di routine degli arrestati domiciliari e visti i numerosi precedenti per spaccio tra il ragazzo e la sua vicinanza agli ambienti della stidda, hanno seguito una perquisizione domiciliare. L'approfondimento ha dato conferma dei sospetti avuti ed i militari hanno rinvenuto, stipati in un sacco nero sopra i bidoni dell'acqua, circa 4 kg di hashish suddiviso in panetti, 1.200 g di marihuana confezionata in sacchi di plastica sigillati e in parte già in dosi pronte per essere spacciate e circa 30 g di cocaina già disposta in palline pronte per la vendita al minuto e tenute all'interno di dispenser di pastiglie. Lo stupefacente messo sul mercato avrebbe fruttato oltre 70.000 euro. Per l'arrestato, che dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, si sono aperte le porte della casa circondariale di Gela, dove rimarrà a disposizione della competente autorità giudiziaria in attesa di giudizio. Alcuni giorni addietro, sempre i carabinieri in un caseggiato di un'area rurale a Mazzarino, avevano trovato e sequestrato quattro involucri di cellofan contenenti quasi 4,5 kg di marihuana. Furono arrestate due persone, si tratta di due cugini di 39 e 43 anni, già noti alle forze dell'ordine. In quell'occasione furono rinvenuti anche un bossolo ed un altro grammo di sostanza stupefacente. Procede dunque incessante l'attività di controllo da parte delle forze dell'ordine che rimarcano l'importanza della collaborazione con la cittadinanza perché in sinergicazione possa essere garantita la sicurezza collettiva. Cambiamo argomento, si svolgeranno sabato 18, domenica 19 e lunedì 20 novembre le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Caltanissetta. Gli organi rimarranno in carica per il triennio 2018-2020. Il seggio sarà aperto in via Enrico Medi 1 a Caltanissetta. Gli iscritti potranno votare nei seguenti giorni. Sabato 18 dalle 9 alle 19, domenica 19 dalle 9 alle 19 e lunedì 20 novembre dalle 9 alle 17. Stato di agitazione del personale precario dell'ASP a darne notizie ai segretari generali delle sigle sindacali della CISL Funzione Pubblica, CGL Funzione Pubblica e UIL Federazione Poteri Locali che annunciano un sit-in dinanzi la sede della direzione generale dell'azienda sanitaria provinciale in via Pusmano per venerdì 17 novembre dalle ore 10 alle ore 14. A destare il malumore dei 245 lavoratori precari, molti dei quali famiglie monoreddito, l'incertezza sull'avvio del processo di stabilizzazione e le somme destinate a tal fine, nonostante i numerosi incontri e gli accordi con la direzione dell'ASP. I sindacati annunciano anche che trascorsi i termini per le procedure di raffreddamento senza alcun esito positivo comunicheranno la data dello sciopero. Il motivo principale è quello della stabilizzazione dei precari perché fino a 15 giorni fa c'era stato promesso che sarebbero stati stabilizzati a 32 ore, adesso invece si parla di 20 ore. Si capisce bene che questo non può essere accettato. Poi noi capiamo che vi è una difficoltà dell'amministrazione con la rimuovazione della dotazione organica, però questo non può impedire che ci si sieda attorno a un tavolo per cercare di risolvere i problemi. E poi ci sono tante questioni risolte. Questo è sostanzialmente il motivo per cui noi chiediamo un confronto serio, aperto e positivo. Qui noi stiamo parlando di persone. Ci sono 145 persone che devono essere stabilizzate subito e poi altre 100 persone. Quindi chiediamo un intervento di Sua Eccellenza e Prefetto. Torniamo a Gela. La diocese di Piazza del Merina celebra la prima giornata mondiale dei poveri indetta per domenica 19 novembre da Papa Francesco. L'iniziativa, voluta in rete dalla Caritas diocesana, dalle parrocchie di Gela, riunirà attorno alla stessa mensa centinaia di poveri attualmente assistiti. Appuntamento al Paladon Bosco, nel quartiere salesiano di Gela, dove decine di volontari saranno impegnati nell'organizzazione del pranzo collettivo che sarà preceduto da una celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Rosario Gisana nella parrocchia San Domenico Savio alle 12. La giornata mondiale dei poveri è anche l'occasione per il secondo incontro diocesano di formazione di tutti gli operatori Caritas della diocesi che si trarrà alle 16.30 presso la chiesa Sant'Agostino. La relazione sarà tenuta da Don Angelo Passaro con la celebrazione della prima giornata mondiale dei poveri. inizierà l'itinerario biblico pastorale Chiesa povera per i poveri. Il percorso di 11 tappe si svolgerà una domenica al mese nella chiesa Sant'Agostino di Gela, Centro Nazionale di Spiritualità della Misericordia. Le parrocchie Sant'Antonio e Regina Pacisi di Gela per l'anno pastorale 2017-2018 propongono il progetto La Parrocchia Comunione di Comunità. Il laicato adulto evangelizza il territorio, un percorso di 11 tematiche che si sannoderà fino al prossimo 10 marzo. Ad aprire e chiudere gli incontri sarà il Vescovo di Piazzarmerina, Monsignor Rosario Gisana. Gli incontri in calendario si trarranno seguendo il programma seguente. 17-18 novembre, 13 gennaio, 10-17-24 febbraio, 2-10 marzo a Regina Pacis, 24-25 novembre, 12 gennaio, 16-23 febbraio, 1 marzo a Sant'Antonio. L'inizio degli incontri è sempre vissato per le 19.30. Tra i relatori anche Don Franco Luvarà, parroco di Santa Maria di Ognina, e Gabriella Lamedola dell'Istituto Teologico San Paolo di Catania. Domani e sabato si parlerà delle comunità ecclesiali di base come risposta all'esigenza di evangelizzazione ed il necessario decentramento della parrocchia. Obiettivo del progetto è quello di condividere riflessioni ed esperienze per il ruolo dei laici nella comunità, secondo la pastorale della Chiesa in uscita, ribadita più volte da Papa Francesco. Si delinea sempre più il calendario degli appuntamenti della terza edizione del Salus Festival, il Festival Nazionale dell'Educazione alla Salute, per quanto riguarda la tappa nissena. A Caltanissetta si susseguiranno seminari, convegni e varie attività di carattere scientifico, culturale, divulgativo e artistico dal 29 novembre al 3 dicembre. Il Salus Festival, che quest'anno abbraccia ben quattro città e cioè Trapani, Siracusa, Caltanissetta e Grigento, è promosso dal CEFPAS, sostenuto dall'Assessorato regionale alla salute organizzato in collaborazione con le aziende sanitarie provinciali, i comuni coinvolti ancora agli ordini professionali, università, scuole, associazioni di volontariato e terzo settore. Si pensa alla promozione della cultura della salute, in programma anche iniziative di prossimità che puntino alla prevenzione come il quartiere in salute che coinvolgerà l'Istituto Vittorio Veneto. Questa edizione è particolarmente importante che peraltro vede anche la collaborazione dell'ufficio scolastico provinciale raddoppiata, se si può dire, rispetto anche al passato con un coinvolgimento di tutte le scuole degli istituti superiori cittadini e anche di molte scuole primarie. In questo senso il tentativo su cui stiamo lavorando è di costruire un piano di prevenzione che abbia come obiettivo quello di raggiungere e migliorare le condizioni di assistenza sanitaria per la preparazione, ponendo la prevenzione, l'educazione e la cultura della salute al centro della nostra attenzione. Non solo per oggi, lo stiamo facendo con un progetto per il futuro e in questo senso la novità di Caltanissette che ci sarà anche un'iniziativa che coinvolgerà un intero quartiere del centro storico in un'azione che comincia col Salus ma che continuerà nei mesi prossimi con servizi informativi, sportelli di consulenza sanitaria alla popolazione e anche con momenti di confronto per esempio con istituzioni scolastiche come il comprensivo Vittorio Veneto quindi con le scuole anche primarie. Da questo punto di vista io credo che siamo a un livello di attenzione nuovo, rinnovato sui temi della salute che ancora una volta, come è avvenuto in passato con il Salus, coinvolge testimonial, testimonial del calibro di Mogolle. Sarà inaugurata l'uno di 20 novembre alle 19 nella sala riunioni della Chiesa Santa Lucia di Gela la fondazione anti-usura Enza D'Angeli interverranno autorità civili, militari e religiose. Prosegue fino al 30 novembre prossimo la mostra fotografica alla Gela che fu organizzata da Franco Pardo e da Franco Cerniglia. L'iniziativa si svolge nella sala congressi di Macchitella. Alcune foto sono esposte anche in alcuni locali che si trovano in zona. Ci fermiamo, linea alla regia per la pubblicità. Eccoci, seconda parte del telegiornale. Continua l'iniziativa Musica in Corsia promossa dalla associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra di Gela in collaborazione con l'Aspra 2 di Caltanissetta ed il presidio ospedaliero Vittorio Emanuele. Sabato 18 novembre alle 18.45 a Resitala Musicale nel reparto di Ortopedia. E ora parliamo di sport e calcio con le decisioni del giudice sportivo che hanno interessato il Gela. Mano pesantissima sul Gela calcio dopo la gara di domenica scorsa al provinciale di Trapani contro il Paceco il giudice sportivo ha inflitto tre giornate di squalifica al difensore centrale Davide Moi per avere a gioco fermo spintonato con forza alcuni giocatori avversari. L'episodio incriminato si è verificato a seguito di un fallo subito dall'attaccante biancazzurro Giuliano Alma. Squalificato per quattro partite anche il giocatore Alessio Virgilio del Paceco per avere a gioco fermo colpito con un calcio alla schiena un calciatore avversario diverso a terra provocandogli forte dolore e innescando un'arressa che coinvolgeva tutti i calciatori in campo e alcuni occupanti la panchina con conseguente interruzione della gara per circa sei minuti. Il tecnico dei Trapanesi è stato fermato per un turno per avere nel corso di una rissa abbandonato l'area tecnica facendo ingresso sul terreno di gioco. Ammunizioni con una rifida per l'allenatore del Gela Pippa Romano per comportamento non regolamentare. La società biancazzurra è stata multata di 2.000 euro per avere tutti i propri calciatori ed alcuni occupanti la panchina preso parte alla rissa che determinava l'interruzione della gara. Nella circostanza dice il giudice sportivo alcuni sostenitori della società scuotevano con violenza la rete di recensione dell'impianto di gioco fino a scardinare un cancello pur senza fare ingresso sul terreno di gioco. A quel punto si rendeva necessario l'intervento delle forze dell'ordine. I danni saranno risorciti se saranno richiesti e documentati. Per la rissa il paceco è stato condannato al pagamento di 1.500 euro. La mano pesante del giudice si è battuta anche sul direttore sportivo del Gela Giovanni Martello inibito fino al 29 novembre prossimo a svolgere ogni attività per avere tentato di venire a contatto con un dirigente avversario non riuscendo per il fattivo intervento di altri tesserati presenti in panchina. Squalifica per un turno per somma di munizioni per l'attaccante Tommaso Bonanno che così salterà la gara di domenica prossima al Presti contro il Palazzolo. Si terrà sabato 9 dicembre a Gela l'ottava edizione Corri con Papa Natale promossa dall'associazione Green Sport Promotion di Giuseppe Veletti appuntamento in Piazza Umberto I dalle 9.30 per informazioni e iscrizioni c'è un numero telefonico 347 5799 271 è stata accolta dall'applauso caloroso dei giovani studenti della città che gremivano l'auditorium Bufalino la campionessa paralimpica detentrice del record mondiale nel triathlon Nicole Orlando ospite a Caltanissetta assieme alla sua allenatrice Anna Miglietta per presentare il libro vietato dire non ce la faccio scritto a quattro mani con la giornalista Alessia Cruciani la 23enne volto nota a livello mediatico per essere stata una delle concorrenti dell'undicesima edizione di Ballando con le stelle nel 2015 ha partecipato al campionato mondiale in Sudafrica confermandosi dominatrice nei 100 metri nei 200 metri nella staffetta a 4% nel triathlon e nel salto in lungo vincendo quattro ori e un argento ed è proprio in Sudafrica che una foto scattata da Mauro Ficeri poi postata su Facebook è stata ripresa dal premier Matteo Renzi la sua storia fa il giro del mondo in pochi giorni e nel discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella viene citata al pari di Fabiola Giannotti e Samantha Cristoforetti come ricordato dalla giornalista Ivana Baiunco sul palco assieme a Nicole per raccontare la sua storia da piccola facevo un anno in piscina poi facevo tre anni tre e mezzo facevo giornalistica artistica è la mia prima allenatrice che è Anna Miglietta la mia allenatrice e lei è presidente società della Marmora e il sport lo amo tantissimo è la mia passione ho fatto anche un po' attività dello sport che mi piace sì questo libro ho scritto con Alessia Cruciani è una giornalista della gazzetta dello sport abbiamo scritto un titolo che si chiama Vietato di non ce la faccio è anche il mio motto perché mi piace questo libro ho scritto delle cose che è la mia storia è la mia vita che ho fatto e mi piace ovviamente scrivere sì i miei ragazzi devono ovviamente farcela devono far vedere chi sono devono ascoltare anche gli allenatori dello sport e anche poi devono anche andare a scuola prima si va a scuola e dopo divertimento perché la scuola è molto importante e anche la famiglia è molto importante anche e anche i nonni perché i nonni sono eccezionali sono sempre nei loro cuori la pagina dello spettacolo proseguono gli appuntamenti con la stagione teatrale all'Eschilo di Gela sabato 18 alle 17.15 e alle 21.15 Pietro Genuardi e Patrizia Pellegrino porteranno in scena il bene per la famiglia il botteghino lo ricordiamo è aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20 e nuova stagione teatrale all'antidoto di Macchitella a Gela sono 14 gli spettacoli in calendario si parte le 22 ed il 23 novembre alle 21 con Amori e Bugie per l'acquisto degli abbonamenti bisogna recarsi al botteghino del teatro tutti i giorni dalle 17.30 alle 21 ed il prossimo sabato 25 novembre alle 19.30 al teatro comunale Eschilo di Gela il Lions Club di Niscemi porterà in scena i civitoti in pretura di Nino Martoglio l'adattamento dialettale e di Antonino Patti l'intero ricavato sarà devoluto in beneficenza abbiamo concluso anche per oggi grazie e arrivederci arrivederci per l'anima